L'Iside svelata di Madame Blavatsky Una prova innegabile di questo è il significato dei loro innumerevoli simboli. Ognuno di questi simboli è un'idea che ha preso corpo combinando la concezione del divino invisibile con il terreno visibile. L'uno deriva rigorosamente dall'altro per analogia, secondo la formula ermetica, come in alto così in basso. I loro simboli mostrano una grande conoscenza delle scienze naturali e uno studio pratico della potenza cosmica. Quanto ai risultati pratici che saranno ottenuti con l'investigazione della geometria, molto fortunatamente per gli studiosi che vogliono passare all'azione, non siamo più costretti ad accontentarci di semplici congetture. Ai nostri tempi, un americano, George Felt di New York, il quale, se continua come ha cominciato, potrà un giorno essere riconosciuto il massimo geometra dell'epoca, è stato capace, con il solo aiuto delle premesse dagli antichi egiziani, di arrivare a risultati che esporremo con le sue stesse parole. Anzitutto, dice il Felt, è necessario il diagramma fondamentale al quale si può riferire ogni nozione di geometria elementare, sia piana che solida. Poi, produrre sistemi aritmetici di proporzione in modo geometrico. Identificare questa figura con tutti i resti di architettura e di scultura nei quali questa figura è stata seguita in modo meravigliosamente esatto. Determinare che gli egiziani l'avevano usata come base dei loro calcoli astronomici, su cui il loro simbolismo religioso era quasi interamente fondato. Trovare le sue tracce fra tutte le vestigia d'arte e di architettura dei greci, scoprirne ugualmente le tracce negli annali sacri degli ebrei, così da provare in modo conclusivo, che si fondavano su di esso. Infine, trovare che l'intero sistema era stato scoperto dagli egiziani dopo ricerche di decine di migliaia di anni sulle leggi della natura e che potrebbe veramente chiamarsi la scienza dell'universo. Inoltre, egli ha potuto determinare con precisione problemi di fisiologia finora semplicemente sospettati e sviluppare per la prima volta una filosofia massonica tale da essere la prima scienza e la prima religione, così come sarà l'ultima. E possiamo aggiungere, infine, provare con dimostrazioni visibili, che gli scultori e gli architetti egiziani ottennero i modelli delle loro bizzarre figure che adornano le facciate e i vestiboli dei loro templi, non da disordinate fantasie dei loro cervelli, ma dalle invisibili razze dell'aria e di altri regni della natura che il Felt, al pari degli antichi egizi, sostiene di rendere visibili grazie ai loro processi chimici e cabalistici. Zweigart dimostra che i simboli di tutte le mitologie hanno una base e una sostanza scientifiche. Sono mediante recenti scoperte delle forze fisiche elettromagnetiche della natura esperti di mesmerismo come N. Moser, Zweigart e Barth in Germania, il barone Dupeté e Regazzoni in Francia ed in Italia poterono tracciare con esattezza quasi impeccabile la vera relazione in cui ogni teomito è con alcune di queste forze. Il dito ideico che ha tanta importanza nell'arte magica di guarire ha il significato di un dito di ferro che è attratto e respinto a turno dalle forze naturali magnetiche. Esso ha prodotto, in Samotracia, meraviglie di guarigione riportando organi malati nelle loro normali condizioni. Barth va più a fondo di Zweigart nell'interpretazione degli antichi miti e studia l'argomento sotto entrambi gli aspetti spirituale e fisico. Egli parla a lungo dei dattili frigi, quei maghi ed esorcisti della malattia e dei Teurghi Kabiri. Egli dice quando parliamo della stretta unione dei dattili con le forze magnetiche non siamo necessariamente limitati alla pietra magnetica e la nostra visione della natura non fa che gettare un colpo d'occhio sul magnetismo nel suo significato più completo. Allora è chiaro come gli iniziati che si facevano chiamare dattili sbigottivano il popolo con le loro arti magiche compiendo, come fecero, miracoli di guarigione. A questo univano molte altre arti che il clero dell'antichità aveva l'abitudine di coltivare. L'agricoltura, la morale, il progresso dell'arte e della scienza, i misteri e le consacrazioni segrete. Tutto questo veniva fatto dai sacerdoti Kabiri e perché non sarebbero stati guidati e aiutati dai misteriosi spiriti della natura? Schweiger è della stessa opinione e dimostra che i fenomeni dell'antica teologia erano prodotti da poteri magnetici sotto la guida degli spiriti. Nonostante il loro apparente politeismo gli antichi, perlomeno quelli delle classi colte, erano decisamente monoteisti e questo secoli e secoli prima di Mosè. Nel papiro Evers questo fatto è dimostrato in modo conclusivo nelle seguenti parole tradotte dalle prime quattro righe della tavola prima. Io sono venuto da Eliopoli con i grandi esseri di Hetat, i signori della protezione, i padroni dell'eternità e della salvezza. Io sono venuto da Saïs con le dèe madri che stendevano su di me la loro protezione. Il Signore dell'universo mi ha detto come liberare gli dèi da ogni morbo mortale. Gli uomini eminenti erano chiamati dei dagli antichi. La deificazione di uomini mortali e gli dèi immaginati non sono una prova contro il loro monoteismo più di quanto i monumenti dei cristiani moderni che rigolano statue ai loro eroi non sia una prova del loro politeismo. Gli americani del nostro secolo considererebbero assurdo il fatto che la loro posterità fra tremila anni li definisse idolatri per avere retto statue al loro Dio Washington. La filosofia ermetica era così avvolta nel mistero da far affermare a Volney che i popoli antichi adoravano i loro grossolani simboli materiali come divini in se stessi mentre essi erano solo considerati rappresentazioni di principi esoterici. Anche Depuis dopo aver dedicato molti anni allo studio del problema fraintese il circolo simbolico e attribuì la loro religione solo all'astronomia. Eberhardt e molti altri scrittori tedeschi dello scorso e del presente secolo trattano la magia con ancora meno cerimonie e pensano che sia dovuta al mito platonico del Timeo. Ma senza la conoscenza dei misteri come era possibile per questi uomini e per altri non dotati della sottile intuizione di uno Champollion scoprire la metà esoterica che era celata dietro il velo di Iside a tutti coloro che non sono adepti. Nessuno vorrà mettere in dubbio il merito di Champollion come egittologo. Egli afferma che tutto dimostra come gli antichi egiziani fossero profondamente monoteisti. L'esattezza degli scritti del misterioso Ermete Trismegisto la cui antichità si addentra nella notte del tempo è da lui sostenuta nei loro minimi particolari. Anche Enne Moser dice Erodoto Talete Parmenide Empedocle Orfeo e Pitagora si recarono in Egitto per istruirsi nella filosofia naturale e nella teologia. Là anche Mosè acquistò la sua sapienza e Gesù passò ai primi anni della sua vita. Là si riunivano gli studiosi di tutti i paesi prima che Alessandria fosse fondata. Come mai prosegue Enne Moser così poco è stato conosciuto di questi misteri attraverso tanti secoli e in tempi e popoli così diversi? La risposta è che questo è dovuto all'universale e rigoroso silenzio degli iniziati. Un'altra causa può essere trovata nella distruzione e totale perdita di tutti i documenti scritti della conoscenza segreta dell'antichità più remota. I libri di Numa descritti da Tito Livio che consistevano in trattati sulla filosofia naturale furono trovati sulla sua tomba ma non era permesso conoscerli per tema che rivelassero i più segreti misteri della religione di Stato. Il Senato e i tribuni del popolo decisero che quei libri dovevano essere bruciati cosa che fu fatta in pubblico. la magia era considerata una scienza divina che portava alla partecipazione degli attributi della divinità stessa. Dice Filone Giudeo che essa svela le operazioni della natura e conduce alla contemplazione dei poteri celesti. in periodi più tardi il suo abuso e la sua degenerazione in stregoneria ne fecero un oggetto di orrore universale. Dunque dobbiamo considerarla quale era solo nel remoto passato e in quelle epoche in cui ogni vera religione era fondata sulla conoscenza dei poteri occulti della natura. Non fu la classe sacerdotale dell'antica Persia quella che stabilì la magia come si crede comunemente ma i magi che derivano da essa il loro nome. I Mobed sacerdoti dei parsi gli antichi Geber sono chiamati ancora oggi Magoi nel dialetto dei pelvi. La magia apparve nel mondo con le prime razze umane. Cassiano ricorda un trattato ben conosciuto nel quarto e nel quinto secolo che fu attribuito a Cam figlio di Noè il quale a sua volta si crede che lo ricevesse da Yared ossia la quarta generazione di Seth figlio di Adamo. grazie a tutti. Grazie a tutti.